Per favore non cedete Cenarentola, questo testo possiamo dire anche un po' tenero, molto tenero, si parla di un papà, tu sei un papà, un vedovo, da 12 anni, e c'è questa figura di Cenarentola? Sì, allora ovviamente non posso svelare molto, esatto, bravissimo, è un testo di un giovanissimo ragazzo di 24 anni, ha vinto diversi premi, abbiamo vinto già diversi premi a lui soprattutto come giovane drammaturgo, è stato presentato al tato Ralfo Cuccini di Milano, quest'anno appunto comincerà la nostra tournée, molto lunga, da per giunta. Cos'altro ti devo raccontare? Credo l'inevitabile pensiero di qualunque papà nel momento in cui i figli lasciano il nido, un po' pascoliana come immagine, solo che c'è un piccolo, diciamo così, un piccolo dettaglio che è fondamentalmente l'amore che in questo caso è visto da diversi punti di vista, cerco di mantenere un velo di mistero proprio perché lo spettacolo... Ma soprattutto anche dal punto di vista delle fragilità umane, no? Soprattutto delle fragilità umane, sì, insomma cosa la solitudine fa scaturire anche nel, diciamo così, nelle persone che devono affrontare la vita anche da sola, da soli, senza figli e altro che però non vorrei dire perché ovviamente... Ci sarà molto da pensare. È uno spettacolo sì, che induce a pensare ma con un tono di commedia particolarmente... Leggero. Sottile. Sottile, sì, sottile. Bisogna entrare proprio nelle dinamiche insomma del testo. Sì, bisogna entrare un po' nelle dinamiche del testo, però ti assicuro che è scritto molto bene e poi sono... i miei colleghi di palco e sono molto felice. Sì, intanto di Roberto Marfan. Esatto. E tu sei in compagnia di Valeria Monetti, Sebastiano Colla, Susana Laurenti e Derrico Torzillo. Che fanno i miei figli che sono bravissimi per giunta. Insomma, dai. Quindi sono felicissimo e non vedo l'ora. Sei un papà fuori dal palco e sopra il palco. Eh, prima o poi doveva capitare. Prima facevo il figlio, adesso faccio il papà. Ludovico, ti ringrazio tanto per la tua cortesia, in bocca al lupo e ci vediamo al Teatro di Servi. Esatto. 8-24 novembre. 8-24 novembre. Grazie Ludovico. Grazie a te. Ciao, in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie a te.